I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a far riemergere dal bacchiglione il furgone di Alberto Pittarello, 39 anni, ex compagno di Sara Buratin, la quarantenne uccisa con 20 coltellate a Bogolenta. Nell'abitacolo c'era il cadavere dell'uomo. L'omicidio è avvenuto martedì 27 febbraio nella casa della mamma di Buratin dove la donna si era trasferita con la figlia da un paio di settimane. L'ipotesi è che a ucciderla sia stato l'ex compagno Pittarello poi suicidatosi nel bacchiglione.